Streaminganti, MTIers, ci siamo, il mese di marzo alle porte, si stanno palesando tutte le nuove serie e film in arrivo su Netflix. Non abbiate paura, prendete del papiro e un polipo che avrete tanto da segnarvi. Via che si parte! Come sempre la prima parte del video la dedico a qualche veloce recensione di quello che ho visto su Netflix nell'ultimo mese. Una menzione d'onore va a Rabbits Invasion Missione su Marte, un film per bambini ma anche per gli amanti di quel fortunati personaggi assurdi con cui ho passato tante ore felici su videogiochi di un'ignoranza incredibile. Storia carina e divertente, dateli una possibilità. Vado avanti con il primo dei due film tailandesi che è appunto I Love You, che risulta sì banale e citofonato con scene di realtà virtuale in puro stile trash. Ma che alla fine non dispiace nemmeno troppo ed è simpatico. Stessa sorte ma per motivi differenti dall'altro Fistful of Vengeance. Dove si possono vedere ottimi combattimenti ma che tra torri e storia scarsa non è che ti faccia venire chissà che voglia. Sebbene meritano una menzione di una certa importanza, le zinne al vento di un'attrice eppure gli nuverevoli petti nudi gratuiti maschili nei combattimenti. Anche la serie di Cuphead mi sta piacendo e ho deciso di guardarmela con calma. Ho invece stroncato Big Bug perché è troppo comicità francese, mentre mi è piaciuto parecchio per modo di narrare storia, amore e guinzagli molto meglio di 50 sfumature di colore a vostra scelta. Ho finalmente finito di vedere anche la terza stagione di You e devo dire non male ma nemmeno chissà che cosa. Infine la donna nella casa di fronte alla ragazza della finestra a me ha convinto un thriller horror ben congegnato e non banale che vuole sovvertire e prendere anche in giro tutti i cliché dei film di genere. Ma adesso non voglio dilungarmi troppo ed è il momento di partire con la selezione di film e serie di Netflix che per me non saranno da perdere a marzo. Inizio con un film storico, Against the Ice, disponibile dal 2 marzo, storia che ci porta nel 1909 quando una spedizione parte per la Groenlandia con l'idea di verificare che l'isola sia una sola e non due. In realtà il viaggio di ritorno si rivela essere una vera e propria sfida per la sopravvivenza ma soprattutto di amicizia e relazioni umane. Vista la presenza di un orso direi che lo stile è molto vicino a quello di Revenant, giusto per ricordarci cosa voglia dire vivere là fuori. Arriva una serie thriller dal titolo Frammenti di lei il 4 marzo. Parla di una donna che deve fuggire dopo che l'uomo l'ha minacciata con una pistola e la madre l'ha aiutata. Questo ha però creato tanti dubbi sul passato di sua madre e Andy, la nostra protagonista, andrà alla ricerca di diverse risposte, storia tratta da un bestseller che dal trailer mi ha appreso. Vediamo se il primo episodio però si conferma. Una storia di viaggio ci arriva in un film di fantascienza The Adam Project dall'11 marzo, un film che racchiude in sé la mina vagante del viaggio nel tempo e l'incontro con il sé stesso più giovane per cambiare il futuro. Un cast di tutto rispetto e il fatto che non sembri prendersi troppo sul serio potrebbe far saltare fuori qualcosa di interessante con alieni e astronavi e la salvezza dell'umanità che non si vedeva magari da un po'. Staremo appunto a vedere. Una storia di truffe e plagio mentale ci arriva invece dalla miniserie Bad Vegan in arrivo il 16 marzo. Inutile dire che come pensate è la storia vera di Sarma Menglani, celebrità e ristoratrice vegana che in una decina d'anni fa è stata truffata di quasi 2 milioni di dollari da un uomo che l'ha plagiata e con cui è anche fuggita. Una storia assurda e surreale. Altro thriller in arrivo come il vento si tratta di Windfall. Mamma mia che brutte battute che scrivo ultimamente. Comunque facciamo finta di niente in arrivo il 18 marzo e con un cast a 3 di tutto rispetto. Siegel, Plemons e la Collins. Il primo che rapisce gli altri due che rientrano in casa mentre cercava di fare un furto. Una storia già vista ma che potrebbe funzionare se ben girata e ritmata come sembrerebbe dal trailer. Butto nella mischia pure Cattelan con la miniserie una semplice domanda in arrivo sempre il 18. Tutto inizia con una domanda di sua figlia che gli chiede come si faccia ad essere felici. Serie di sei episodi con cui Cattelan porterà il suo ospite di turno Baggio, Elio, Sorrentino, Vialli e la Geppi Cuccari. In una serie di situazioni strane per portarli a parlare di sé e capire se e come si possa essere felici. Non vogliatemi male ma Cattelan è uno dei pochi nel panorama italiano che fa qualcosa di nuovo e di un certo livello. C'è poi sempre tempo per un po' di animazione Human Resources ancora dal 18 marzo. Una serie spin-off di Big Mouth che vuole entrare nel dettaglio delle assurde vide quotidiane, dei mostri degli ormoni, spiriti della vergogna, le fatine dell'amore e le gattine della depressione. E insomma tutti quegli esseri sopranaturali che accompagnano i protagonisti della serie madre. Dal trailer mi ha già convinto, ma penso che l'oblio sia lì dietro l'angolo, se si sbaglia anche solo di pochissimo. Rotoliamo verso un film giapponese, Love Like The Falling Petals. In arrivo il 24 di marzo. Si tratta di un film giapponese tratto dal bestseller ormonimo Impatria. Storia ovviamente d'amore tutta pronta per la fioritura dei ciliegi in cui un fotografo si innamora della sua parrucchiera e quando finalmente decide di dichiararsi, tutto per loro sembra andare al meglio fino a quando lei non contrae una malattia che la fa invecchiare rapidamente. A me pare interessante e non così banale, vedremo anche qui. Prima di concludere definitivamente e irrimediabilmente il video voglio lasciarvi qualche altro veloce consiglio ma prima siete fortemente incoraggiati a mettere un bel mi piace, iscrivervi al canale e attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati. Non dimenticatevi anche di commentare, c'è bisogno che mi diciate la vostra su queste uscite. E proprio a riguardo il primo marzo arriva Alive, storico film basato su fatti realmente accaduti poi dal 3 arriverà Mezzanotte a Istanbul, film turco in cui una giornalista arriva in un storico hotel e viene trascinata nel passato e tutto potrebbe cambiare. Dall'8 marzo arriverà Benvenute a Marwen con uno Steve Carell che si supera in questa storia surreale. Dal 10 marzo poi arrivano anche un po' dei film di Bud e Teres e non c'è bisogno di presentazioni. Ancora dal 10 e di animazione arriva Kotaro abita da solo, storia di un bambino che da solo affitta un appartamento. Trailer assurdo! Infine dall'11 marzo la stagione di Drive to Survive sull'ultimo mondiale di Formula 1. Si dice che nessuno voglia più Netflix nel paddock perché porti sfortuna. Ma intanto è proprio la fine fine e noi ci rivediamo ai prossimi video a MediHires. Ciao!